Presentato nel cuore di Pescara Centro presso lo stabilimento Panterei, il nuovo allenatore del Pescara Futsal, Mr. Frane Despotovic. Insieme al tecnico croato sono state svelate le nuove divise da gioco dei biancazzurri a cura del nuovo sponsor tecnico, l'azienda pescarese Bedavis dell'imprenditore Fabio De Vincentis. Sotto gli occhi del capitano Stefano Mammarella, degli addetti ai lavori e degli appassionati presenti. Le parole dei protagonisti. È giusto, stiamo preparando con ragazzi per iniziare questa stagione che sarà dura perché ci sono tantissime partite e dobbiamo prepararci bene. È giusto, subito una bomba, è giusto così, meglio che subito iniziamo forte contro la squadra più forte degli ultimi anni. Sono curioso come la facciamo. Certo, ma ho parlato già con ragazzi, è ovvio quando entri nel campo che vorrei vincere con qualsiasi squadra, quindi dobbiamo pensare così. Poi certo che vorremmo arrivare a playoff, lì tutto è possibile, però prima di tutto che parliamo di risultato, dobbiamo sempre lavorare forte per raggiungere i nostri obiettivi, quindi il nostro primo obiettivo sarà lavorare duro. Sì, la carta d'identità cresce ogni anno, è ampia, è ampissima, però per andare a vedere Stefano Mammarella, che sogna tutti i giorni e torno sempre indietro, nella mia testa, nella mia carta d'identità. Ecco appunto, nella tua esperienza, come ti sembra questo Futsal Pescara, a cosa può ambire? Questo Futsal, sin dal primo giorno che ci siamo visti, sin da domenica, mi è sembrata una grande formazione, ben affamata, piena di entusiasmo e tanta voglia. Ci sono tanti ragazzi nuovi, dove sono ben formati, esperti come Murillo, Coco e André Ferrera, dove metteranno tutta la loro esperienza per aiutare i ragazzi. Sì, diciamo, la splendida squadra, allestita dal mio caro amico Gabriele, la voglio vedere questa sera, proprio vado per la prima volta al palazzetto e quindi constaterò, diciamo, la forza del Futsal Pescara. Le magliette le abbiamo appena presentate, tutte e quattro, dalla bianca azzurra, alla verde, alla blu e alla rossa. Speriamo che già da domenica prossima inizia un percorso importante, quindi questa partnership tra la Futsal Pescara e la Breda Viste Sport, che possa essere veramente vincente.